Il Festival di Musica Antica di Magnano, un'associazione che dal 1986, 38 anni fa, organizza ogni anno concerti di musica antica e corsi di perfezionamento musicale per volontà di Bernard Braucli, clavicembalista e fondatore del festival. Il piccolo borgo di Magnano, di soli 366 abitanti, rivive, ospitando artisti di fama internazionale e le molte persone che gratuitamente assistono ai concerti. Ci troviamo nel luogo in cui si svolgono i corsi di musica antica a Magnano, in compagnia di Chiara Caucino, assessora regionale. Cosa ha trovato in questo piccolo borgo del biellese, patrimonio del biellese? Una eccellenza straordinaria. Vengo a conoscenza in queste ore veramente di un gioiello, di un gioiello culturale, artistico, perché, come dire, spesso i nostri territori biellesi nascondono delle meraviglie, a volte inespresse o non sufficientemente conosciute. Quindi io credo che oggi sia arrivato il momento, di fronte a tanta beltà, bellezza e veramente meravigliosa cultura, perché questa è cultura viva, di portare alla conoscenza dei più una realtà come questa, che credo debba essere valorizzata attraverso il sostegno, il sostegno comunicativo ma anche economico della regione Piemonte. Io so che, insomma, la regione negli ultimi anni probabilmente ha mancato sotto questo profilo, ma da assessore regionale alla delega, anche ai minori, ma soprattutto alla famiglia, perché penso che questo sia un patrimonio che tutte le famiglie biellesi debbano finalmente conoscere. Ecco, io mi impegno pubblicamente affinché, insomma, questa realtà straordinaria possa davvero essere veicolata ai più. E grazie, insomma, al maestro che è qui, che oggi riconosce davvero questa grandissima competenza sotto il profilo musicale. Ho visto degli strumenti antichi e di musica antica incredibili, straordinari, quindi veramente un patrimonio d'eccellenza che, ripeto, dobbiamo tutti insieme impegnarci a conservare e a valorizzare. Grazie, maestro. Grazie a lei. Anastasia Demetriades, direttore artistico del Festival, un giorno importante per la storia di Magnano e la storia del vostro festival. Sì, è un giorno molto importante perché il festival esiste da 38 anni, e il corso da 36 anni, e come avevo detto, era già qualche contatto con la regione, ma credo che dobbiamo cominciare qualcosa, possiamo parlare di anno zero adesso, e cominciare qualcosa per probabilmente l'anno prossimo, adesso siamo nel festival, allora prendiamo un po' il tempo di cercare soluzioni insieme, per come avevi detto, e valorizzare questo posto, non solo ai persone che vengono già, e sono numerose al festival, ma le famiglie, le giovani, le ragazze, possiamo collaborare con le scuole, e per questo penso che è molto importante questo incontro di oggi. Condivido, condivido pienamente, sicuramente sarà foriero di grandi novità. Sentiremo quindi ancora parlare di Magnano e del suo festival, buon lavoro a entrambi. Grazie.